E' attesa in queste ore la sentenza del TAR sul ricorso presentato dai proprietari delle fonderie Pisano contro il decreto di sospensione dell'attività emesso dalla Regione. Ad attendere il risponso dei giudici, nei pressi della sede del Triburale Amministrativo di Salerno, una delegazione del Comitato Salute e Vita ed alcuni lavoratori delle fonderie. Oggi noi abbiamo 121 famiglie che hanno sottoscritto ad opponente un ricorso al TAR per chiedere l'immediata chiusura delle fonderie. Rappresentate dall'Avvocato Franco Massimo Lanocita, insieme al Comune di Pellezzano e il Comitato Salute e Vita. E' paradossale che oggi qui ci siano i lavoratori dall'altra parte. Noi avremmo sempre voluto, l'abbiamo detto da sempre, che i lavoratori e i cittadini sono vittime di una politica complice che non è stata capace di trovare risposte e di soprattutto un imprenditore disonesto che dal 2004 inquina e continua a farlo. Il 3 ottobre del 2018 l'ARPAC ha ancora una volta certificato che vi è un documento, quindi un pericolo immediato per i lavoratori e per i cittadini. Tutto questo è paradossale che oggi si faccia prevalere, fino ad oggi si è fatto prevalere il diritto di impresa al diritto alla salute. Noi vogliamo che i lavoratori e i cittadini vengano garantiti sia per il lavoro, non per il ricatto del lavoro, ma sul lavoro sia per il diritto alla salute. Siamo stanchi di contare i morti, gli ammalati, di sapere che siamo avvelenati, perché dal 2015, da quando l'ARPAC l'ha certificato, vi è un immediato pericolo per la vita e per l'ambiente, non dormiamo più sogni tranquilli. Sappiamo che quella fabbrica non riesce e non può, è inadeguabile, e crea un immediato pericolo alla vita delle persone e dei lavoratori. Ci aspettiamo di avere la possibilità di continuare a lavorare, perché attualmente non è solamente questo tipo di incontro di questa mattina, attualmente stiamo facendo tante cose come azienda. Stiamo cercando un terreno, l'abbiamo trovato, abbiamo fatto un progetto, l'ho messo pure qui per farlo vedere. Stiamo lavorando per avere un revamping dell'AIA, sembra che le cose siano andate bene. Abbiamo preteso dall'azienda di mettere sui cammini una centralina che fa il monitoraggio H24 delle emissioni, un'altra centralina per vedere la qualità dell'area. Questi dati di queste centrali saranno visibili a tutti perché saranno pubblici. Stiamo facendo tante di quelle cose e vogliamo fare tante di quelle cose per poter arrivare all'obiettivo finale, che è quello della delocalizzazione. Vi voglio ricordare a voi signori che noi sono più di due anni che stiamo con uno stipendio, non dico da fame perché sarebbe brutto dirlo, perché ci sta chi sta peggio di noi. Però arrivare per esempio adesso a fine anno, avere 590 euro di tredicesima e fare tutto quello che c'è da fare in una famiglia è un poco dura oggi come oggi. Quindi noi vogliamo cercare di lavorare questo breve tempo che ci serve per andarcene e qui facciamo un appello alle istituzioni. Trovate il modo come farci delocalizzare. Dobbiamo andare a Buccino, dobbiamo andare al cementificio, dobbiamo rimanere a Via dei Greci con un investimento di 40 milioni di euro per rendere una... diteci cosa fare, ma fate in fretta.